Scelta discutibile e che tra l'altro non migliora la situazione al 41esimo lancio lungo di Di Natale, Maggio è in netto vantaggio ma Asamoah lo apprende alle spalle, palla recuperata dal ganese, Castellazzi battuto e 3 a 0, terza impietosa coltellata al morale della Sampdoria che certo nell'errore di Maggio si dimostra già sotto i tacchetti.